Ben ritrovati sul canale, sono Fanny e oggi voglio mostrarvi una cosa che mi ha mandato Banggood. Sono degli spessori in alluminio di varie misure, quindi andiamo da un minimo di 1 mm fino al massimo di 100 mm, quindi varie misure. Adesso ve le faccio vedere tutte bene nel dettaglio, stanno scorrendo le immagini, quindi voi vedete tutto il kit completo, ma la cosa che mi sono chiesto appena mi è arrivato era che cosa posso farci con queste cose? Bene, come avete visto le applicazioni credo che siano abbastanza infinite, ho avuto un po' di suggerimenti da chi ce li ha, sono utilissimi per esempio col banco a sega, se il vostro banco a sega su un banco fresa, con la fresatrice, col telefono a colonna per impostare le profondità, quindi veramente hanno un utilizzo svariato. Io qui sotto in descrizione vi lascio il link di acquisto con un coupon sconto, se per caso il coupon sconto non dovesse essere attivo vi ricordo che c'è il mio canale telegram dove pubblico le offerte di questo tipo, quindi anche il coupon sconto che magari vengono rilasciati man mano che scadono e quindi io rimetto quelle aggiornate, quindi vi invito a seguirmi anche lì, trovate tutto in descrizione, video molto breve ma perché non c'è molto da dire, è un kit talmente semplice ma talmente indispensabile che c'era pochissimo da dire, quindi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!